La ricerca medica si trova di fronte a scelte difficili ma serve un giusto equilibrio tra insistenza e desistenza. Lo ricordava Papa Benedetto XVI nel 2008. Le domande che riguardano alla fine della vita terrena hanno sempre interpellato l'umanità ma oggi assumono forme nuove per l'evoluzione delle conoscenze e degli strumenti tecnici resi disponibili dell'ingegno umano. Oggi è anche possibile protrarre la vita in condizioni che in passato non si potevano neanche immaginare. Occorre un supplemento di saggezza. Lo ricordava Papa Francesco nel 2017. L'associazione Genitori di Marcheno in collaborazione con la Erigenda Unità Pastorale e cioè con le parrocchie Santi Pietro e Paolo di Marcheno, con la parrocchia San Michele Arcangelo di Brozzo, con la parrocchia San Giacomo di Cesovo e con la parrocchia San Vigilio di Lodrino propone una riflessione sul fine vita. Giovedì 10 novembre alle 20 e 30 all'oratorio di Marcheno. Il fine vita. Relatori. Professor Luciano Eusebi, docente di diritto penale, Università Cattolica di Milano. Dottor Giovanni Zaninetta, responsabile Unità Operativa Cure Pagliative della Domus Saluti di Brescia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.